Dormire al sol diretto dall'argentino Alejandro Chomsky è uno dei film presentati al Carlo Vivari Film Festival nella sezione Another View, dedicata ai film che usano tecniche e linguaggi poco diffusi o sperimentali. Ispirato al romanzo dello scrittore argentino Adolfo Bioi Sazares, il film è un buon esempio del cosiddetto realismo magico sudamericano in cui la fantasia si mescola con elementi reali. Il realismo magico è uno stile molto difficile. Se mi chiedi di definirlo in una parola direi che è un lavoro di genere fantastico, ma dentro una commedia drammatica è un thriller ed è ambientato in un periodo. È divertente, ma ciò che avviene non è divertente. Ha molto di tatì e bionel. Alejandro Chomsky crea un'atmosfera surrealista inquietante con il suo sorprendente e particolare stile visivo, in una storia kafkiana di vita familiare e malattia mentale. Un altro film della stessa sezione è The Mill and the Cross, diretto dal polacco Lech Majewski, ispirato alla celebre opera del pittore fiammingo Peter Bruegel, Processione al Calvario. La pellicola racconta la creazione del quadro, una vincente dissertazione sulla simbologia di Bruegel. Bruegel è un attore in grado di creare un suo mondo, nel quale ho abitato molto tempo fa. Ho trascorso molto tempo di fronte a quest'opera a Vienna. Riesce sempre a risucchiarti. Entri nel suo mondo come accade con Fellini. La combinazione di tecniche vecchie e nuove permette allo spettatore di entrare nel film, dove la narrazione lenta, quasi meditativa, contribuisce a trasportarlo in un'altra epoca. I film che fuggono da se stessi, fuggono dalle persone, sono tutti basati sulla velocità. Fuga, fuga dall'argomento, dall'interiorità, dall'essenza delle nostre vite. Quindi Bruegel per me è un artista contemporaneo che riesce a riportarmi dentro me stesso e a un mondo che era più ordinato. Sul film, una coproduzione svedese e polacca, la critica si è divisa, apprezzato da alcuni come brillante e stato boccato da altri perché lento e noioso. Grazie a tutti.